Musica Si schianta contro un rondò e muore, incidente fatale la scorsa notte a Taranto sulla statale Sette Ter, direzione Bari, la vittima un 42enne di Massafra in sella ad una moto ed è caduta rovinosamente sull'asfalto, inutile il soccorso del 118 All'Agenzia regionale Arif l'attività di ricognizione, sorveglianza, spegnimento e bonifica delle aree forestali colpite dagli incendi il Consiglio regionale investe 6 milioni e mezzo di euro, circa 5.500 euro di spento in Puglia la scorsa estate Tutto pronto a Lecce per l'ascensore panoramico, venerdì taglio del nastro e l'annullo filaterico speciale di poste italiane in onore del viaggio sul campanile del Duomo del capoluogo barocco, più di 200 le prenotazioni già attive Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento in diretta con l'informazione in primo piano La cronaca si schianta contro un rondò e muore e fatale l'incidente della scorsa notte a Taranto sulla statale Sette Ter, direzione Bari, vittima un 42enne di Massafra Ennesima tragedia della strada nel Tarantino, incidente stradale mortale, nella notte alle porte della città ha perso la vita un uomo di 42 anni di Taranto, viaggiava in sella ad uno scooter, da chiarire l'esatta dinamica del sinistro il mezzo è finito sull'asfalto, inevitabile il violento impatto per il 42enne purtroppo non c'è stato nulla da fare la vittima è Angelo Masiello, sono stati gli automobilisti di passaggio a dare l'allarme quando sono giunti sul posto i soccorsi, non è stato possibile far altro che constatare il decesso del motociclista il grave sinistro è avvenuto nel primo tratto della strada statale 100 a 2 km dal capologo ionico nella zona industriale in direzione Massafra Bari stando a quanto si apprende non ci sarebbe stata collisione con altri mezzi ma saranno le indagini dalle forze dell'ordine a chiarire quanto è avvenuto con esattezza sul luogo dell'incidente si sono subito recati gli agenti della sezione volanti della Polizia di Stato oltre ai sanitari del servizio 118 Ancora cronaca, un incendio ha distrutto nella notte 20 baracche del ghetto di Borgo Mezzanone insediamento spontaneo a 15 km da Foggia Ancora un incendio devassa la baraccopoli di Borgo Mezzanone nell'area del Foggiano che ospita più di 1500 migranti impiegati per lo più nei campi agricoli del tavoliere Per fortuna nessuno è rimasto ferito e intossicato L'episodio è avvenuto intorno alle 4 di notte quando per causa ancora da accertare, molto probabilmente un cortocircuito le fiamme hanno distrutto circa 20 baracche dell'accampamento ed avvolto un cumulo di rifiuti adiacenti propagandosi così più velocemente Tempestivo l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco degli uomini del presidio del 115 insieme ad una squadra del comando provinciale di Foggia che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'intera area a rendere difficoltose le attività di spegnimento la presenza di alcune bombole di gas a ridosso della zona interessata dalle fiamme Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica Si tratta dell'ennesimo rogo divampato nel ghetto a causa della presenza di numerosi allacci abusivi alla corrente elettrica e nel corso dei quali alcuni migranti hanno perso la vita o sono rimasti gravemente feriti Prima reazione intanto, quelle della FLA e della CGL la regione convochi subito con urgenza il tavolo per avviare il confronto sull'utilizzo dei 113 milioni di euro destinati al superamento degli insediamenti abusivi come quello in questione e restiamo incapitanata perché la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Foggia Franco Landella, l'ex presidente del Consiglio Comunale Leonardo Iaccarino e altri 15 indagati tra i quali l'ex amministratori comunali, dipendenti, imprenditori e comuni cittadini la foto è quella di Franco Landella, già primo cittadino del capoluogo Dauno coinvolti nell'inchiesta su presunte tangenti a Palazzo di Città a formulare le richieste ai sostituti Roberta Brahi ed Enrico Infante titolare dell'indagine l'udienza davanti al GUP è stata fissata per il prossimo 7 di luglio al centro dell'ipotesi accusatoria del pagamento di una tangente di circa 32 mila euro per ottenere il rinnovo di una proroga urbanistica chiede di patteggiare con un sostanzioso risarcimento del danno una delle aziende venete coinvolta nell'inchiesta su vino adulterato che ruota tra le province di Brindisi e Lecce si è aperta con un piccolo colpo di scena l'udienza preliminare dell'inchiesta sulla sofisticazione, adulterazione e contraffazione del vino che ruota intorno all'azienda Megalellas di San Pietro Vernotico ha chiesto di patteggiare la pena la casa vinicola Botter di Fossalta di Piave in provincia di Venezia azienda leader a livello mondiale che pure si è trovata coinvolta nell'inchiesta penale la Botter ha depositato 3 milioni 200 mila euro come riparazione delle conseguenze del reato in qualità di socio-occulta della Megal e si è detta disponibile a risarcire gli enti ritenuti danneggiati dalla contraffazione con 330 mila euro al Ministero delle Politiche Agricole 40 mila euro all'Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale 100 mila euro alla Regione Puglia e infine 20 mila euro a testa alle Camere di Commercio di Brindisi, Lecce e Taranto l'istanza concordata con la difesa della Botter è stata depositata dal Pubblico Ministero Giulia Proto nell'udienza preliminare iniziata davanti al gruppo del Tribunale di Lecce che dovrà decidere sulla congruità della proposta il prossimo 25 maggio quando si tornerà in aula sono 49 le persone fisiche e 12 le aziende per le quali la Procura di Lecce ha chiesto il rinviaggiudizio nell'inchiesta condotta dai carabinieri del NAS e dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole che nel mese di luglio di tre anni fa portò all'arresto di 11 persone e al sequestro di 30 milioni di litri di vino la teoria accusatoria è che partendo da un prodotto di scarsa qualità importato spesso dalla Spagna grazie alla fermentazione alcolica di miscele di sostanze zuccherine ottenute da canna da zucchero barbabietole si producevano vini imbottigliati con etichette che richiamavano a prodotti di alta qualità vino sofisticato e non vendibile secondo la Procura prodotto invece regolare certificato per la difesa dei principali imputati rappresentati dagli Avvocati Francesco Vergine Massimo e Riccardo Manfreda Emanuele Marchionna All'Agenzia regionale Arif l'attività di ricognizione, sorveglianza, spegnimento e bonifica delle aree forestali colpite dagli incendi il Consiglio regionale investe 6 milioni e mezzo di euro All'Agenzia regionale Arif l'attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica delle aree forestali percorse dagli incendi lo ha stabilito il Consiglio regionale dell'escorsione modificando la legge vigente in materia e assegnando uno stanziamento del valore di 6,5 milioni di euro che comprende tanto i servizi antincendio boschivo quanto quelli di protezione civile in ambito forestale fino al 2024 e con l'obiettivo di finanziare le spese relative al personale D'altro canto, proprio negli scorsi giorni è tornata a riunirsi anche l'Assemblea dei Sindaci dell'area interna dei Monti Dauni la cui vegetazione d'estate tiene con il fiato sospeso per il rischio dei roghi al termine dell'incontro a Troia il Vertice ha deliberato l'attuazione del piano antincendio 2022 che dovrà essere approvato prima dell'inizio della campagna che di norma parte dal 20 giugno tra le richieste l'accelerazione per l'aggiornamento del catastro dei soprasuoli, i percorsi dal fuoco e l'immediato rinnovo della cartografia antincendi boschivi un anno fa una delle stagioni più dure di sempre fanno i conti dalla protezione civile dopo il contrasto ad un numero di roghi boschivi e non pari a circa 5.500 Le rinnovabili al centro di un braccio di ferro tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale ieri l'argomento è tornato all'ordine del giorno con una delle emozioni intanto la reazione di Fabiano Amati gas ed eolico chi dice no non è un vero ambientalista Come si fa a superare la crisi energetica con la guerra in atto con i no? Loro dicono no perché non sono ambientalisti sono inquinatori perché dire no a impianti energetici che per la prima volta ci aiutano a non prenderci soluzioni inquinanti mi sembra alquanto paradossale, alquanto curioso il gas e le rinnovabili il gas come carburante di transizione le rinnovabili come produzione energetica ottimale e green non può vedere il no di un ambientalista come me e perciò dico sì Restiamo in argomento l'assessore Anna Grazia Marasco ha espresso una posizione chiara e nitida contro il progetto offshore per la distanza minima dalla costa di 12 km che avrebbe, secondo l'esecutivo regionale impatto visivo devastante sulla bellezza della costa salentina il braccio di ferro è quello a trazione salentina sentiamo di che si tratta dopo la mozione di Paolo Pagliaro Finalmente è giunto il sospirato non ufficiale del governo regionale al mega impianto eolico offshore lungo la costa Otrantoleuca un progetto contro cui ci battiamo da 5 mesi insieme all'intero territorio minacciato la contrarietà all'impianto che ha avuto un iter molto travagliato e alla fine è stata assorbita e non votata è arrivata oggi per bocca dell'assessore all'ambiente Marasco in risposta a un'interrogazione urgente lo dichiara il capogruppo della Puglia domani, consiglio regionale Paolo Pagliaro a margine dei lavori in aula a gennaio scorso infatti c'era stata una risposta scritta che però si limitava a dire che non risultava sul portale del Mite alcuna istanza di consultazione preventiva né di via presentata dalla società Odra Energia relativa al parco eolico da realizzare a sud di Otranto il progetto però è stato poi presentato provocando numerose polemiche è stata l'assessore Marasco insomma in queste ore a esprimere chiaramente la posizione del governo regionale contro questo progetto per la distanza minima dalla costa di soli 12 chilometri che avrebbe un impatto visivo devastante sulla bellezza delle coste salentine rigassificatore la provocazione dei no tap di Brindisi una nota provocazione del movimento no tap di Brindisi che entra a gambatesa sul tema rigassificatore riportando al centro del dibattito vecchi argomenti tra turismo e industria con il movimento brindisino che punta il dito in particolare nei confronti della regione e respinge senza mezzi termini questa possibilità guardando invece ad un'idea diversa di riconversione ecologica rimproverando la scelta del territorio brindisino per una rigualificazione che guarderebbe solo al mondo industriale e non a quello turistico ed ambientale sia la colmata di fiumi grande che il diposito di Genelle di Edison che i rigassificatori non porteranno occupazione per Brindisi nessun sviluppo a livello di occupazione non porterà nessun sviluppo a livello turistico eccetera per Brindisi e sono opere completamente inutili soldi spesi male noi ci siamo chiesti perché Brindisi quando c'è da fare una cosa sporca che inquina eccetera viene scelto o Brindisi o Taranto ci siamo chiesti perché e la risposta ce l'ha data Emiliano un paio di anni fa quando voleva spostare l'approdo di TAP a Brindisi invece cammino in Dugno dicendo TAP o Brindisi ormai è rovinata ecco c'è questa idea a livello nazionale dei politici regionali che viene insomma è rovinata per cui qualsiasi schifezza ce la dobbiamo prendere noi La politica nella capitale intanto con il no della Camera alla proposta di legge sul presidenzialismo targata Fratelli d'Italia Siamo disponibili a discutere di tutto purché la maggioranza non voti l'emendamento soppressivo della intera proposta per scappare da questo dibattito perché se lo faranno noi sapremo che PD 5 Stelle e compagnia non vorranno far altro che mantenere un sistema nel quale continuare a fare liberamente i loro giochi di palazzo sulla pelle dei cittadini Questo aveva detto la leader di Fratelli d'Italia Meloni ma la Camera ha detto no alla proposta di legge costituzionale sul presidenzialismo il provvedimento del Movimento 5 Stelle è infatti passato con 236 sì 19 astenuti renziani e 204 no a favore ha votato compatto il centrodestra contro il resto del centrosinistra proprio a Lega e Forza Italia Meloni aveva chiesto una prova di lealtà in aula dopo che in commissioni affari costituzionali l'assenza di Forza Italia e Lega aveva portato all'approvazione dell'emendamento soppressivo approdato a Montecitorio per il PD la proposta di riforma non è altro che propaganda soprattutto a dieci mesi dalla fine della legislatura ma Fratelli d'Italia non ci sta e promette battaglia le prossime elezioni politiche chiederemo agli italiani un voto anche per questo sempre più tesa la situazione tra gli operai all'interno dello stabilimento di Taranto di Accioieria Italia Fim Cis ribadisce la richiesta di convocazione al governo se non ci saranno novità pronte nuove azioni di lotta vicini all'esasperazione il barometro dell'umore tra gli operai di Accioieria d'Italia di Ilva Inaess e dell'Indotto vira sempre più verso la tempesta non è bastato lo sciopero dello scorso 6 maggio per smuovere le acque del governo sull'argomento neppure la richiesta unitaria di Fim Fiume Wilm di un'immediata convocazione al Ministero dello Sviluppo Economico e i numerosi appelli lanciati all'esecutivo ultimo quello del segretario generale Fim Cis Roberto Benaglia hanno suscitato reazioni la temperatura destinata a salire non certo perché si va verso l'estate se non ci saranno novità annuncia il segretario aggiunto Fim Cis la Taranto Biagio Prisciano saranno incrementate le azioni di lotta lo sciopero quello del 6 è una prima iniziativa che il sindacato ha messo in campo chiaro è che se non vedremo risposte dal governo e dai vari ministri chiaro che noi alzeremo il tiro e non ci fermeremo ci siamo stancati oramai delle campagne elettorali noi siamo stanchi noi vogliamo vogliamo la concretezza vogliamo le risposte a tutto un territorio che è martorato sia in termini di ambiente sia in termini di salute e di lavoro l'umore degli operai non è buono anche perché non si possono lasciare tante persone tanti dipendenti tante famiglie tante famiglie praticamente appese con un punto interrogativo in testa noi qualsiasi persona che gli si pone la domanda cosa vedi nel tuo futuro non c'è certezza sia Orlando sia i ministri Giorgetti sia il governo sia il presidente del consiglio Draghi si devono muovere subito anche perché venissero a Taranto così ovviamente li facciamo comprendere e capire se con 900 euro si riesce insomma a sopravvivere abbiamo argomento esami efficaci fino a 5 volte più veloci e con meno radiazioni grazie alla nuova TAC del Perrino di Brindisi inaugurata Brindisi presso il reparto di radiodiagnostica dell'ospedale Antonio Perrino una nuova TAC che permetterà esami fino a 5 volte più veloci con meno radiazioni un'attenzione particolare anche agli ambienti che possono rendere più accogliente quest'area di visita al paziente presente all'evento il direttore generale dell'AS di Brindisi Flavio Roseto il direttore sanitario Vito Campanile ed è Luisa Muscogiuri direttore dell'unità operativa complessa di radiodiagnostica per immagini presente anche l'ex direttore generale dell'AS di Brindisi e commissario degli ospedali riuniti di Foggia Giuseppe Pasqualone è un'attacca in effetti di nuova generazione con delle performance elevatissime che faranno sì da poter eseguire gli esami in tempi molto più brevi questo sta a significare che vi sarà una minore assorbimento di radiazioni verso il paziente ci sarà la possibilità di fare più esami in un intervallo di tempo quindi si possono anche recuperare le prestazioni non fatte e quindi agire in maniera diretta sulle liste d'attesa questo è un progetto che rientra nel rinnovamento di tutto il parco macchine per cercare di migliorare tutta quella che l'offerta che la radiodiagnostica può dare ai pazienti oltretutto non da poco è l'umanizzazione degli ambienti che rendono più confortevole sicuramente il momento di diagnosi che il paziente deve ricevere e pazienti che di solito arrivano qui con tanti problemi e che necessitano di avere la tranquillità meritata e di entrare in un ambiente che li possa accompagnare con fiducia alla guarigione Bari si candida alla sfida green delle città del Mediterraneo esperti internazionali pronti per la Bari Smart City Conference che precede l'edizione numero 2 dello Smart Building Levante una transizione ecologica non traumatica verso i cambiamenti climatici e l'ambizione di fare da best practice tra le città a clima caldo del Mediterraneo Bari ci crede al Politecnico ci lavorano su da tempo ricerche su nuovi materiali e tecniche edilizie o utilizzo di tecnologie dedicate al settore delle costruzioni e poi supporto agli aziende del comparto in questa direzione va la Smart City Conference sulla sostenibilità e resilienza dei centri urbani che precede l'inaugurazione della seconda edizione dello Smart Building Levante fino al 14 maggio tra i viali della campionaria vuol dire ad esempio pianificazione strategica locale con riferimento specifico al Sud Italia ma anche autonomia energetica soltanto a citarne alcuni a ragion per cui il Politecnico ha lanciato una call to action ai propri studenti per selezionare le migliori idee innovative in questo campo da presentare durante l'altre giorni bisogna creare infrastrutture sia fisiche materiali sia digitali bisogna creare le competenze e in questo il Politecnico può giocare il suo ruolo formando talenti che possono portare un contributo importante a raggiungere target che sono davvero sfidanti entro il 2050 in quanto dobbiamo arrivare alla neutralità del carbone la Smart City Conference rappresenta un momento importante di riflessione a cui anche come amministrazione siamo molto interessati perché il tema tocca i temi del risparmio energetico la resilienza delle nuove tecnologie applicate alle città le cose succedono sempre di più nelle città e quindi è essenziale avere la possibilità di confrontarsi anche con attori di grande livello come quelli presenti in questa giornata Tutto pronto a Lecce per Appa ascensore panoramico venerdì il taglio del nastro l'annullo filatelico speciale di Poste Italiani in onore di questo viaggio sulla campanile del Duomo del Capoluogo Barocco Una volta realizzato il restauro esterno e poi anche interno con la costruzione dell'ascensore che devo dire è stato studiato con delle tecnologie straordinarie ne dico una sola ci sono le quattro travi d'acciaio che portano su tutto l'impianto che non toccano per niente i gradini quindi è una struttura autonoma all'interno della quale l'ascensore sale e scende portando i visitatori che lo vorranno Il 13 maggio il giorno più atteso delle eccesi il giorno nel quale si è inaugurato l'ascensore installato nel campanile del Duomo che dal giorno dopo porterà i visitatori a 50 metri d'altezza e le quattro terrazze da lì lo sguardo si allargerà tutto il territorio circostante al mare e si potrà allungare fino a intravedere le montagne dell'Albania Presidente lei è salito già in forma inedita che emozione ha provato? È bello è bello basta non dire altre cose forse è troppo inutile salire su con l'ascensore è bello l'investimento per realizzare il progetto dell'ascensore secondo in Italia solo la Basilica di San Marco a Venezia è di 1.200.000 euro salire in cima al campanile costerà 12 euro con il biglietto ordinario e 9 con il ridotto dalle 10 alle 20 di ogni giorno e l'ascensore potrà ospitare massimo 5-6 persone per volta e raggiungerà il punto di osservazione in poco più di 40 secondi sulla balconata saranno inoltre sistemati anche dispositivi interattivi che spiegheranno le caratteristiche del luogo un'accademia di belle arti non poteva mancare naturalmente a questo incontro lo facciamo con il nostro rappresentante il nostro docente artistia Antonio Miglietta ha realizzato questo basso rilievo per l'evento restiamo a parlare di turismo con l'estate in arrivo vediamo come si stanno preparando le marine le cesi siamo a Toresuda Marina di Racale sarà realizzata proprio qui la nuova passerella di accesso al mare per i disabili continua l'impegno dell'amministrazione Salsetti per consentire a tutti di poter accedere al mare nel periodo estivo lavori che inizieranno a breve con un progetto che è stato proprio reso pubblico a causa di un violento nubifraggio questa passerella realizzata proprio per consentire a disabili di accedere direttamente in acqua è stata distrutta ma il comune di Racale ci ha assicurato che presto saranno ultimati i lavori di ripristino il sindaco Salsetti ha fatto un post dicendo che ci sarà un altro accesso però chiedo io molti accessi perché questa scogliera è molto questa litoranea molto lunga e quindi chiedono una ma 30-40 come altri paesi che hanno la scogliera io con le mie spese con le mie possibilità ho fatto una passerella che mi è costato quasi 5-6 mila euro per dare servizio sia ai miei clienti sia anche ai nostri disabili e ai nostri cittadini e non riesco a capire come mai l'amministrazione chiedo anche alla regione Puglia ad Emiliano di intervenire immediatamente perché non è una cosa normale che una marina così bella così no importante dobbiamo stare in queste condizioni è davvero tutto ci fermiamo state con noi tra poco Antonella Fazio e la pagina dedicata a Bari Bat e Foggia rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news i programmi in streaming e on demand e le pagine social lui è un'ascostante che si vedi è un'ascostante di Davide e la pagina